Qualche anticipazione di questo spettacolo? Dunque, io chiudo con molto piacere Kids University con un omaggio a una delle mie passioni scolastiche che è l'Odissea. Ho partecipato un paio d'anni fa a un progetto sull'Odissea nel quale mi era stato chiesto di occuparmi di un canto. Io in realtà, un po' megalomani, ne ho presi quattro, che sono i primi quattro dell'Odissea che conoscono in pochi e che raccontano il viaggio che fa Telemaco alla ricerca del padre. È un'occasione per parlare di un tema forte che è il rapporto doloroso, faticoso, a volte anche molto benefico, fa Pradi e Figli. E quindi è una specie di camminata in mezzo alla classicità, al greco antico e a tutti i riverberi contemporanei perché i grandi classici continuano a rimandarti alla tua vita anche di tutti i giorni. Infatti io mischio un po', come al solito, con il mio stile, un po' di antico e moderno, un po' di alto e un po' di basso. Si ride, si pensa. E questa è l'idea di questa sera. Siamo dentro Kids University, anzi chiuderemo con questa serata i dieci giorni dedicati ai bambini dagli 8 ai 13 anni. E lo spettacolo è proprio in linea con quello che si propone la nostra iniziativa, l'iniziativa dell'Università di Verona. Cioè aprire ai bambini qualcosa a cui arriveranno quando faranno probabilmente le scuole superiori, quindi l'Odissea. Cosa pensi di questa iniziativa, del suo valore? Beh, è molto giusto dare la possibilità a dei ragazzi di avvicinarsi a cose che... Io ho sempre pensato una cosa, che con i ragazzi, con i bambini, anche da padre, oggi anche da nonno, bisogna avere un impatto e un rapporto con i ragazzi non troppo mediato. Ci sono anche cose un po' più complicate che magari non possono capire fino in fondo, ma occorre aprire la comunicazione a tutte le età, naturalmente, sapendo che a seconda dell'età ci sono delle sensibilità maggiori o minori. E quindi trovo che tutte le iniziative, questa poi in particolare è anche universitaria, quindi scientifica, ben lavorata, però in generale tutto ciò che avvicina i giovani al mondo adulto, togliendo questa barriera in fondo che esista, perché in fondo noi tutti siamo stati bambini, noi tutti saremo vecchi, si dice i bambini i vecchi, invece si sarebbe dire quando eravamo bambini, quando saremo vecchi. Quindi tutto ciò che crea punti, secondo me, è molto utile. In questo caso poi lo è ancora di più perché si fonda sulla cultura, che è un bene assolutamente primario.